Ciao Ermac! Ciao! Posso registrare anch'io gli Skyfall? Ho visto che hai caricato un video, sono bellissimi! No! Ah, quindi posso, grazie! No, ovvio che non puoi! Non posso? Ora ti faccio vedere io chi non può! Quindi, posso registrare? Sì o no? Sì, va bene, dai, puoi registrare la Skyfall! Ok, ok, ora ragioniamo. Bravo picciotto. Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video degli Skyfall. Per la prima volta ragazzi mi trovo nei Mindplex per farvi vedere una nuova modalità che ho scoperto grazie ad Ermac, ovvero gli Skyfall. I veri e propri Skywars, le guerre in cielo. Infatti non ho mai considerato gli Skywars delle vere e proprie guerre in cielo, in quanto alla fin fine camperi e stai sempre in un blocco comunque, quindi non voli mai effettivamente. Mentre invece con l'aggiunta delle litre e dell'1.9 si può effettivamente volare e fare delle vere e proprie guerre nello spazio, nelle guerre in cielo. E hanno aggiunto infatti questa modalità nei Mindplex. Questo penso sia tipo una ciambella, oppure una sorta di sfera pochè, non ne sono sicuro. Comunque ci dobbiamo buttare ragazzi all'inizio a prendere le ceste perché ovviamente abbiamo bisogno di un'armatura e di un'arma. E' un server 1.9 ma con PvP 1.8, per cui non vi preoccupate a chi non piace l'1.9, qua il PvP è 1.8, potete gitter cliccare quanto vi pare e piace. Joker, cosa credi di fare Joker? Vieni qua e muori adesso. No, scapperà probabilmente, infatti scappa e vado a uccidere io Alex. Comunque ragazzi, come vi dicevo, il PvP è 1.8 ed è una figata. Ciao Alex, mi dispiace ma sei morto. Oppure sei morta, non ne sono sicuro. Comunque dicevo 1.8 e ora in questo video ho una cosa di molto importante da annunciarvi. Ovvero ragazzi, ho deciso che ogni video di Skywars o Skyfall, perché ormai penso che mixerò questa serie insieme, in quanto io personalmente ritengo che siano praticamente la stessa cosa. Per ogni video Skywars o Skyfall ho deciso di fare il contest del video con l'iscritto. In pratica vi do la possibilità di fare un video con me ogni volta che porto un video di Skywars o Skyfall. Come dovete partecipare? Come sempre appunto ragazzi, dovete semplicemente lasciare mi piace questo video, ovviamente, questo è obbligatorissimo, perché io poi vado a controllare se l'avete lasciato o no. Dovete anche scrivere nei commenti l'hashtag partecipo, però questa volta c'è una variazione. Io non metterò lo screen, perché sarebbe impossibile per ogni partita mettere lo screen su Twitter. Non metterò lo screen questa volta su Twitter di chi ha vinto, semplicemente ragazzi, voi dovete scrivermi il vostro ID qua sotto nei commenti, il vostro ID di Twitter. Per esempio, vi chiamate Pinkopallino, mettete hashtag partecipo e tra parentesi nome Pinkopallino. E io poi ragazzi vi vado a contattare su Twitter, se siete attivi e lo usate effettivamente. E potete fare il video con me, ovviamente non devo dirlo ragazzi, mi dovete seguire su Twitter perché è importantissimo. E tutto qua ragazzi, io mi posso fare una spada in diamante. Oh, anzi no, io mi faccio la scendiamante perché dovrebbe essere più forte, no? Mi sa che non è più forte. Aspettate. Questo però è più veloce. Ok, mi faccio questo perché è più veloce. Dicevo ragazzi appunto, dovete semplicemente lasciare, forse ho fatto una stronzata, forse la scendiamante era meglio. Non ne sono sicuro, fatemelo sapere nei commenti. Dovete lasciare ragazzi mi piace ovviamente a questo video. Dovete commentare, oh quanti drop, dovete commentare, oh che cavolo succede? No, 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 no. E io mica lo sapevo che l'acqua ti fa tutto sto male, oh mio Dio. Ok, ok, con calma, con calma, cerchiamo di rigenerare. Dovete commentare con hashtag partecipo eccetera e quindi ogni video Skywars d'ora in poi sarà un video contest per fare un video con l'iscritto. E quindi ogni video lo porterò con uno di voi. Io penso sia una bella idea, penso sia fantastico perché do la possibilità a tanti di voi di giocare con me e anche di registrare ovviamente. Sono ancora un pochettino in abbino in questa modalità, quindi se avete dei consigli datemeli pure qua sotto perché devo imparare ancora tantissimo. Quindi ragazzi, molto semplice, dovete lasciare mi piace a ogni video Skywars se volete partecipare a un mio video. E io vi sceglierò poi completamente random inviandovi un messaggio su Twitter. Eccolo là ragazzi. Cos'è? È un uccello? È un aereo? No! È un Steve con le ali di Minecraft che sta volando e sta facendo le pirouette fantastiche. È bellissimo. Sembra quasi... Avete presente gli aerei tricolore? Ecco, sembra lui. Eh, penso sia salito là sopra. Allora, se non sbaglio ragazzi, se prendiamo questo ci fa salire più in alto. Non vorrei dire una stronzata, però proviamoci. Quindi prendiamo la rincorsa. 3, 2, 1... Dai, 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 dai. Non devo filare il jump. Ce la faccio? Uh! Ok, ce l'ho fatta. Eh, oddio, non è che sto andando proprio in alto, in alto, in alto. No. Ehi, ehi. Torniamo su. No, no. No. Per quale motivo non sto andando in alto? Non lo so, però anche lui stava per... No, mi ha rubato... No! No, mi sa che muoio, mi sa che muoio ragazzi. Mi sa che sono morto. Sono appena morto, non ci posso credere. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere se volete altri video qua negli Skyfall con un bel mi piace e un commento. E questa volta mi sono preso il kit Aeronauta, quindi io posso volare e fare più danno, mentre... Cioè, posso volare, è un po' stupido da dire, in quanto potevo già volare. E là si stanno prendendo tutte le geste, quindi questa deve essere mia e devo trovare una spada fantastico. Non so a cosa serva la bussola, sinceramente, perché fino ad ora non mi è servita. Molto, magari sono stupido io che non l'ho utilizzata. Ma vabbè. Mi sono messo anche adesso nel... Metto ragazzi degli Aeronaut... Oh mio Dio, non volevo volare! Per quale motivo ho fatto sto volo pazzesco? Non ne ho idea, forse perché sono passato in mezzo a questo anello. Comunque devo ancora imparare e soprattutto devo affinare la mia te... Oh, c'è un fan. Ciao Marco Cimi. Devo affinare la mia tecnica ragazzi di combattimenti volanti, perché ancora non sono bravissimo. Allora, tra un secondo io penso di prendere un boost se mi butto qua sotto, giusto? No, nemmeno per il Cippalippa, quindi non mi è dato assolutamente nulla. Mi dovete fare sapere poi qua sotto nei commenti a cosa servono questi anelli. Anche se sono abbastanza sicuro che dovrebbero dare dei boost, ti dovrebbero fare volare in alto, in basso, a destra, a sinistra, molto più velocemente. Ma comunque non lo sappiamo ancora con certezza, oppure, vabbè, voi magari lo sapete, ma io no. Questo l'ho preso con una frecciata, mister, siamo qualcosa, siamo Cezic. E adesso scappa, è morto. Si è letteralmente suicidato... Ah vabbè, ovviamente ragazzi, ha visto Kendal e ha detto, oh mio Dio, no, è troppo forte, non riuscirò mai a ucciderlo. E si è letteralmente buttato giù, perché ha capito che non aveva speranze, non aveva la minima speranza contro di me. Allora, sistemiamoci l'inventario, perché poi nei commenti tutti mi dite, Kendal, oh mio Dio, ti stiamo all'inventario, hai un casino ogni volta là dentro. Eh, qua ci stanno tre persone che io potrei ammazzare da un momento all'altro. Allora, qua c'è il fan, Marco, quello là sotto, cioè quello là sopra, non è sotto, è sopra. Probabilmente mi vuole venire a cleanappare da un momento all'altro, quindi no. Lasciami stare, perché io ancora non sono molto forte in questa modalità, non ho ben capito come giocarla ancora. Riesco a prenderlo da questa altezza, mi sa proprio di no. Vediamo così? No, 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 non ce la faccio, il mio personaggio è un tappetto, ragazzi. Non riesco, non riesco ad attaccarlo da questa altezza, nonostante sembra che io sia molto vicino a lui. Oh, mio Dio, questo mi ha tirato dai bei hit. E qua c'è qualcuno che mi segue. Oh, ok, posso cleanappare, vediamo? Sì, 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 ok, posso andare a cleanappare adesso. Tu, che volevi stare là sopra a guardarmi per poi cleanappare, mi sa che ti è finita male, in quanto adesso ti pigli una spadata. Io, tra l'altro, faccio il 45% di danno in più, ragazzi, se attacco mentre sto volando. E l'ho attaccato proprio mentre stavo volando. Quindi ho già fatto due o tre kill, se non... Oh, sicuro, mio Dio! E questo chi è? Mi ha laggato in faccia! Cos'è successo? Oh, mio Dio! Missione di questa partita, cercare di vincere. E tra l'altro, ragazzi, mi sono preso adesso un kit diverso, ovvero il kit di occhio di falco, con le frecce che hanno le aimbot, praticamente, seguono i miei avversari. Uh, riesco a prendermi qua delle bellissime armi, è anche un bellissimo elmetto per uccidere questo Steve agguerrito, che in realtà mi ha buttato giù, quindi scappiamo un attimino e ammazziamo questa persona. Oh, mio Dio! Mi ci sono proprio catapultato come una catapulta! Eh, tu ce l'hai con me? Ce l'hai con me? Ce l'hai con me, per caso? Ace! Ce l'hai con me, Alex Dog? Io, fammi scappare, per favore, perché non ho vita, quindi lasciamo perdere questa battaglia un attimo, torniamo qui nella terraferma e andiamo via. Tra l'altro, quella persona, ragazzi, di Adventure mi sta seguendo. No, 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 hai capito? Male, lasciami stare così, perché io devo rigenerare. Non sarebbe cortese da parte tua attaccarmi mentre io non ho vita, quindi facciamo così. Allora, tracking combat. Sì, questo, ragazzi, effettivamente mi potrebbe servire, la bussola, per capire dove sono i miei avversari. Questo, intanto, gli ho tirato due belle hit già da dietro, due bei critici con l'ascetta in ferro, quindi fa più male, teoricamente. Oh, 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 tu sei morto, tu sei morto, inutile che scappi, inutile che scappi, anzi, se scappi adesso muori, per cui devi morire, assolutamente. Ok, ragazzi, come vedete, sono riuscito a intrappolare quella persona con delle combo fantastiche e adesso abbiamo più o meno il predominio del centro. Siamo rimasti in pochi e tu, ovviamente, non devi restare qua, perché questa è casa mia, quindi... Ma è pazzo. Si è... si è suicidato. Ok, quella persona, ragazzi, ha deciso di porre fine alla sua esistenza e a me servirebbe un arco e delle frecce, perché io ho il kit aimbot, praticamente, e questa persona sta cadendo, quindi prendiamola adesso con l'einbot. Sono riuscito a prenderlo, quindi gli farò una combo fenomenale. Oh, no, 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 questo mi vuole clean up, hai capito malissimo, io devo vincere questa partita, può essere... Quindi vai e muori, per favore, hai un cuore, probabilmente... Sì! Sono riuscito a vincere con un PvP fantastico, ragazzi, e grazie anche al aimbot, che mi ha aiutato a farmi fare quella combo fenomenale. E guardate con lui che osserva quanto è contento. Ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace per queste Skyfall, ovviamente, e ricordate che per partecipare... Devo uscire un attimo. Ricordate che per partecipare, ragazzi, al contest, per fare un video con me, che avverrà in ogni video Skywars e Skyfall, dovete semplicemente lasciare mi piace e scrivere partecipo con il vostro nome di Twitter accanto al commento. Tutto qua, ragazzi, è molto semplice, però ricordatevi che ogni video Skywars sarà un video per fare un video con voi. Quindi il prossimo video lo farò con un fan, e in quel video stesso potete già scrivere hashtag partecipo, eccetera, eccetera, perché parteciperete, se verrete scelti, a un video in mia compagnia perché ho deciso di fare Skywars e Skyfall sempre con i fan perché penso sia più bello e anche per coinvolgere un pochettino di più voi dentro il mio canale. Vi invito a lasciare un mi piace a questo video, fatemi sapere se volete partecipare qua sotto nei commenti con l'hashtag partecipo e condividetelo con un vostro amico se volete che anche lui partecipi ai miei video. Da Kendra è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video.